Qualche volta la prendono troppo sul serio. Johnny, tanto buono. Fu tanto carino con me quando andò a picco il mio matrimonio. E che faceva tuo marito? Un po' la libratore, un po' lo strozzino, estorsioni, cose così. Ah, un professionista. Che hai fatto? Hai divorziato? Ti sei separata o cosa? No, gli spararono in mezzo agli occhi. Come? È cieco. Morto. Certo che è morto, si sa, le pallotto le trapassano. Mio Dio, poverina, sarà stata... Dio, chissà che sciocco.